Alba non era la mamma, Alba era una donna straordinaria, che per caso era mia madre. Il problema delle autrici dal punto di vista storiografico è che sono completamente assenti. Una narrazione del passato viene presentata come neutra, universale, si basa invece su un modello di genere maschile che esclude in qualche maniera le donne. Io ho cominciato a scrivere a cinque anni e mezzo, sei anni, papà venne a parlarmi, io credevo che mi sgridasse e lui mi disse, serio, serio come forse non lo conoscevo, sei tu che hai scritto questa poesia. E lui mi disse, papà non lo faccio più, ti prometto non lo faccio più, ti prometto non lo faccio più. E lui mi disse, no, lo farei ancora, povressita. Vieni, 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 v Grazie a tutti.